Ciao ragazzi, oggi facciamo un po' di Tabata, ok, con un thunderbell, ok, Tabata con thunderbell e con un trampolino e mi invito sempre, aspetta, vammi vedere se vedete la testa e vado un po' indietro, così mi potete vedere almeno giù, ok? Un elemento veloce, io perché vi consiglio di fare Tabata proprio su un trampolino, perché ti rende la vita molto più facile quando noi andiamo a fare il jump squat o triometria a terra, impattiamo tantissimo sulle ginocchia, sulla schiena, sulle caviglie e diventa veramente noioso, amo Tabata quando c'è poco tempo, perché comunque riesce a fare tanto lavoro in un brevissimo periodo 18-20 minuti, così, se andate di corsa fate Tabata, però il mio consiglio è sempre di farlo con, diciamo, un trampolino perché ti garantisco, puoi fare di più, ok, perché sicuramente potrei fare più ripetizioni che il trampolino ti aiuta a lavorare e dall'altra parte ti sa l'articolazione, ok? Ok, continuiamo con il nostro lavoro, ancora ancora, aspetta, fatemi provare di migliorare poco a poco l'inquadratura eccoli qua, così riuscite a vedere tutto quello che sto facendo e anche Tandibar mi piace perché ho proprio un peso pluripresa, ok? Così posso lavorare, cingolo pelvico, movimento di accelerazione dell'accelerazione che mi aiuta proprio di allenare al meglio, ok? Ok, vai, 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 continui a fare un bel molleggio con le gambe per riscattarvi, ci mancano 22 secondi poi cominciamo a fare il nostro lavoro di jump squat, che è uno dei miei preferiti perché proprio ti aiuta tantissimo con il gluteo e con le gambe Ok, ancora 9 secondi, ancora 7 secondi, ok, siamo pronti? Allora, 3, 2, 1, ok, jump squat, vai, ecco, su e giù, spingo sui taloni, ok? Vai, piano piano, lavoro bene bene, ok? E notate anche, diciamo, la risposta caotica sulle ginocchia quando arrivo perché c'è tantissimo una sorta di controcolto del trampolino che ci aiuta a allenare più i primi muscolari di quello che facciamo a terra, allo stesso tempo non grave sull'articolazione che è molto bello, che ti permette di lavorare bene e in sicurezza Ok, giù e su, ai spingo, sto lavorando su, diciamo, la parte esterna del piede e del tallone le ginocchia seguono sempre il dito medio dei piedi ma siccome abbiamo poco tempo, voglio farti vedere anche più esercizi di solito, sul nostro tablet faremo 8 repetizioni da 20 secondi dello stesso esercizio, ma oggi li suddivido in 4 in 4, ok? Così siamo a 2 jump squat, 3 jump squat, continuiamo e respira, respira, spingo, questo esercizio puoi anche farlo a terra tranquillamente, ma vi garantisco che molto più faccio fare il suo trampolino perché elimina gran parte della fatica 3, 2, 1, ok, ci manco uno e dopodiché useremo 4 esercizi proprio per il Thunderbird perché il Thunderbird è bello, vi faccio vedere anche tanti esercizi che potete fare con il Thunderbird, il cingulo pelvico e lavorare più in questo core muscles e continuate a spingere, respira ok, come on, come on, come on, vai, vai, vai continuate così, partirei 3 e 2 e 1, ok 10 secondi, ok facciamo Dynamic Arch, ok prendo il passo sopra la testa e due colpetti con il legame 1, down, down, 2 push, push, su e giù così, braccia e gambe su e giù respira ancora continui dai, 7 secondi per fare il nostro primo blocco di esercizi di Tabata e poi abbiamo, ok 10 secondi di recupero respira ok, perché il nostro campolino si aiuta ad entrare molto facilmente nella zona aerobica a modi, diciamo lavoro funzional e crossfit mettete un cardiofriconsimetro e vedrete proprio il tracciato che è molto bello e molto intenso bruciando fino a 1000 calorie all'ora come on push come on ok ci mancano ancora due recupero la baby che il campolino non smetti mai di muoverti così se tu eri attenta dovresti già preso una pausa senza muoverti senza molleggiare senza muovere il micro circolo e il ritorno lempatico push push ancora push and push continui continui e recupero ottimo ragazzi ancora 7 secondi manteniamo abbiamo ancora uno di questi poi cambieremo esercizi ok vai push vai push and push ancora su e giù ancora spingi tenderbell è un esercizio pazzesco perché è accelerazione decelerazione così la devo lanciare e poi devo frenare l'arrivo ok eccellente ok respira 30 secondi respirare poi andremo a fare un bel lavoro proprio di interno cosce e poi di nuovo con tenderbell così avremo 4 esercizi e 4 esercizi in stile tabata ok voglio farti vedere questo viene dal mio mondo di super jump power 2 una lezione che ha diversi modi di lavorare in pancino con il trampolino altamente allenante che lo sai quel giorno che vuoi proprio fare tanto non pensare a niente tranne non lo so spaccare te stesso ok ok su e giù adesso divarico sto facendo un jump squat però jump liè scusimi o un sumo squat come preferisci di chiamarlo e un respiro bello per l'interno cosce però usando anche il peso ok 10 secondi ci mancano a presto è in movimento se sei a terra vedrai che ti viene da recuperare da fermo perché è stancante quando facciamo il triometrico il trampolino aumenta l'efficacia del lavoro il triometrico io adesso ho amici allenatori che sono personal trainer o sono allenatori di squadre di calcio pallavolo basket immagini come aumenti la reattività dei muscoli dei tuoi atleti lavorando con il trampolino e contando da l'insieme è un lavoro pazzesco ragazzi da mai soltanto adottare quello che ti può fare il trampolino perché a volte la gente pensa che il trampolino è un giocatore nulla potrebbe essere più sbagliato come concetto è vero che è ludico ma porto me di spacca ed è fighissimo ti spacca come non sai continuiamo da me 7 secondi 3 e 2 e 1 cavolo vai con Zuni Tabata sei un genio eccellente all'elemento pazzesco ci siamo ancora vai su giù su di questo avvicineremo a lavorare con il nostro tempo bene continui a lavorare 10 secondi 10 secondi bene ragazzi ok ancora 4 secondi ancora ok adesso andiamo a fare quello che aiutiamo karate ok 2 1 ok e un giro di busto spengo anche con le gambe ok così ho l'accelerazione sia delle gambe che la braccia e gli abdominali devi essere talmente tese che quando diciamo perché senti la costruzione finale dell'abdomo ok ti va proprio chiudimi su la diatrona dove diventa difficile mi accorcio da il fiato e mi aiuta proprio di avere i risultati dai cattivi colpisci verso basso su basso basso su di busto spingi per le gambe non perdere l'accelerazione nelle gambe che stai sui trampolino a terra tu non avrai il compagno con le gambe avrai solo le braccia ecco perché sempre ti dico usa il trampolino ti rende la vita più performante più veloce i risultati che ti arrivano prima ed è una piegata per questo ok l'altro lato giù busto colpisci verso basso giù giù e mai cattivi come on vai busto così lo senti nell'obliquo vai spingi con le gambe spingi continui pompa con le gambe giri con le spalle ancora uno stop ancora uno e poi avremo un bello recupero ancora ci siamo su ultime giù vai vedi che è la cosa bella di sabata è che potete respirare e che passa in fretta molto molto intenso ancora ancora continui tre due uno stop ok adesso di nuovo ricopriamo l'attico cardiaco e dreniamo l'acido l'attico che abbiamo accumulato perché siamo sul trampolino non so se riuscite a vedere che le gambe hanno queste contrazioni che lo vedi proprio che si stanno lavorando molto bene ok adesso andremo a lavorare sia bicipidi che jumping jack poi le prime quattro poi ci andiamo a fare i glute con le ottime ok ci siamo pronti ancora il cinque ok jumping jack più metrico ok senza salti apro chiudo apro chiudo apro chiudo apro and giù ok quando scendo su un trampolino con un peso dependo ovviamente di quanto sto saltando ma aumenta il peso stesso ok perché metto l'accelerazione e la decelerazione abbinato al peso che oggi sto utilizzando tre chili però alla fine posso anche raggiungere picchi di dieci chili ok apro e chiudo dipendendo quanto salto le ginocchia seguono sempre il punto apro e chiudo il dito medio del piede provi di non permettere le ginocchia di pronare lavorando sulla parte esterna del piede ok cambiamo braccio con il nostro tempo respira lo sto sentendo tutto però mi piace tanto per questo motivo ok e chiudo apro chiudo respira se dovete fermare o rallentare fanno pure veri tanta acqua e continui a lavorare questo abbiamo veramente pochi minuti di fronte a noi per finire ancora uno e stop ok siamo solo disceso libero adesso un altro di jumping jack poi scenderemo a lavorare con vai e chiudo vai e chiudo vai respira apro chiudo apro chiudo apro ancora 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 vai 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 ci siamo io ho detto gluteo giusto no ma andremo a lavorare il nostro addominali ragazzi facciamo una bellissima ok Russian twist ok siamo pronti destra e sinistra siccativo con etanio bel vanno vai dopo di questo ci mancano soltanto tre repetezioni da venti secondi e abbiamo finito tavo tavo ok tre set da quattro minuti continui due uno relax però continui a molleggiare respira molleggia respira molleggia ok ci siamo adesso destra e sinistra dai ci mancano soltanto tre serie da venti secondi più dieci secondi di recupero e avremo finito con il nostro tablet bello completo e con questi due esercizi un trampolino tanto bello ragazzi avete la palestra in casa quando volete fare qualcosa di musicale segui uno dei miei video su youtube musicale quando vuoi fare qualcosa di tonificazione segui quello proprio puramente diciamo di tonificazione potete venire su neo.gcuber.it per vedere le mie palestre online dove ci sono ore ore più di 165 allenamenti già uploadato e si upload i nuovi video ogni giorno compiti e quant'altro vai vai più veloce più veloce e ci siamo ci manca solo uno e poi in questo mese il trampolino è scontato su colsport.com 30% su tutti i trampolini così se volete provare davvero anche uno sconto ora questo è il tuo mese per ritornare in forma prima dell'arrivo della primavera 2020 ok dai ottime 8 secondi più veloce possibile vai lancia col peso addominali tesi 3 2 1 e relax eccellente thunderbell trampolino tabata sono Jill Cooper e vi aspetto insieme sul prossimo allenamento qui su Instagram ciao dalla Jill 2 2 1 3 6 7